Bentornato sul canale YouTube di Semprefarmacia.it Il prurito è una sensazione fastidiosa che spesso accompagna reazioni allergiche o infezioni della pelle In questi casi sono visibili eruzioni cutanee, infiammazioni e arrossamenti In altri casi però il prurito sembra inspiegabile perché non c'è alcuna alterazione sulla pelle se non quelle create dall'atto di grattarsi È il caso del prurito in gravidanza, del prurito senile, di quello iatrogeno e di quello più strano di tutti Il prurito acquagenico In questo video analizziamo queste quattro situazioni che sono completamente diverse l'una dall'altra ma che a livello cutaneo possono essere affrontate con la stessa strategia Se il video ti piace metti like e ricordati di iscriverti al canale, a te non costa nulla ma a noi è di grande aiuto Il prurito è una sensazione di fastidio alla pelle che ci spinge a grattarci Può essere provocato da un insetto, da un altro elemento di disturbo o da una patologia Il principale neurotrasmettitore del prurito è l'istamina, lo stesso delle reazioni allergiche Ma non è l'unico, nel prurito infatti sono coinvolti anche altri neurotrasmettitori come l'acetilcolina, la serotonina e le endorfine A differenza del dolore che ci fa allontanare la parte interessata dal pericolo che sta creando questa sensazione Il prurito ci spinge a grattarci nella zona interessata senza che la nostra volontà sia coinvolta Lo scopo di un tale meccanismo probabilmente è quello di allontanare eventuali insetti o parassiti Cosa molto utile al nostro organismo ma soprattutto a quello dei nostri progenitori L'assecondare il prurito grattandosi è quindi un comportamento virtuoso Tanto che grattarsi comporta una sensazione piacevole ed è addirittura contagioso È facile infatti che se una persona con la quale stiamo conversando si sta grattando Ci grattiamo a nostra volta e magari proprio nello stesso punto Eppure in alcuni casi il prurito non è collegabile ad azioni utili come allontanare un insetto E nemmeno ad allergie o infezioni Vediamo alcuni di questi casi Il prurito in gravidanza può essere facilmente collegato al fatto che la pelle nella zona della pancia e dei fianchi Si espande per far crescere il pancione Chiaramente una pelle poco idratata ed elastica non assiconda questa espansione Causando la formazione di smagliature e un prurito intenso Intervenire è molto semplice Basta idratare correttamente la pelle utilizzando degli oli vegetali come l'olio di mandorle dolci E creme anti smagliature elasticizzanti In alcuni casi però la causa non è semplicemente questa Se il prurito non è localizzato alla zona della pancia ma interessa soprattutto mani e piedi La causa potrebbe essere la colestasi gravidica Cioè la diminuzione del flusso di bile con accumulo di acidi biliari nel sangue È una situazione che dopo il parto tende a risolversi spontaneamente ma va identificata e curata per evitare problemi al bimbo e alla mamma Il prurito nelle persone anziane è una condizione da non sottovalutare Nella maggior parte dei casi è da attribuire alla xerosi cutanea Cioè all'eccessiva secchezza della pelle, soprattutto di gambe e braccia La pelle degli anziani infatti, se non adeguatamente trattata, presenta una barriera cutanea alterata con un film idrolipidico insufficiente La pelle è estremamente secca e fragile e anche il semplice atto di grattarsi può provocare lesioni che poi infettandosi portano altri problemi Per evitare tutto ciò basta utilizzare detergenti oleosi e balsami rilipidizzanti per ripristinare una barriera cutanea sana A volte a provocare prurito sono proprio i farmaci che dovrebbero curarci È il caso del prurito iatrogeno, cioè provocato dai farmaci Se dopo aver iniziato una terapia con un nuovo farmaco si presenta un prurito non accompagnato da lesioni È il caso di controllare il foglietto illustrativo e avvisare il medico Per molti farmaci, tra cui antibiotici, antipertensivi, antidolorifici e antidepressivi ad esempio È riportato proprio nel bugiardino la presenza del prurito come effetto collaterale In ogni caso avere una barriera cutanea sana e una pelle quindi correttamente idratata Aiuta a diminuire il prurito iatrogeno, così come applicare acqua termale lenitiva e riequilibrante Chiaramente non bisogna sospendere in autonomia e improvvisamente la terapia Ma informare il medico che deciderà il da farsi Il prurito acquagenico invece è provocato dall'acqua Praticamente in chi ne soffre succede il contrario di quanto ci si aspetterebbe E una bella doccia invece che dare sollievo provoca un prurito intenso soprattutto alle gambe Che passa spontaneamente dopo circa mezz'ora Non è allergia all'acqua per cui non bisogna preoccuparsi di non poterne bere Ma una reazione anomala dei recettori del prurito mediata dall'acetilcolina Il prurito acquagenico tende ad aumentare o a verificarsi in estate o a fine estate Prevalentemente su pelle secca e abbronzata Anche in questi casi è importante utilizzare detergenti delicati oleosi e creme lenitive ed idratanti Per diminuire l'intensità del fenomeno Qualche paziente trae giovamento dall'assunzione di antistaminici oppure dall'utilizzo di creme antistaminiche Inoltre è importante fare docce rapide con un getto non troppo forte e acqua né troppo fredda né troppo calda Qualcuno trae giovamento dall'utilizzare acqua con l'aggiunta di bicarbonato E' importante anche dopo non sfregare con l'asciugamano ma utilizzare per asciugarsi un panno di cotone Abbiamo visto che esistono diverse tipologie di prurito che non sono provocate né da allergie né da patologie della pelle Ma che possono essere la spia di un malfunzionamento di altri organi come nella colestasi gravidica Oppure dell'alterazione della funzionalità dei recettori come nel caso del prurito acquagenico In tutti i casi è opportuno, oltre al trattamento specifico, utilizzare prodotti per la detersione e per l'idratazione Rispettosi per la pelle e che favoriscano una buona barriera cutanea A questo link trovi una selezione dei prodotti delle migliori linee dermatologiche presenti su semprefarmacia.it Se hai domande lascia un commento Un saluto dalla dottoressa Valentina di semprefarmacia.it La tua farmacia sempre con te